Giunti all'ultima fase di Archeda per il fuori salone, ultima tappa, ci congediamo quest'anno però ci congediamo con i fuori di artificio. Per quale motivo? Siamo nel showroom di Massimo Caiafa, un gallerista naturalmente figlio d'arte e se il design oggi si scoprono nuove cose lo si deve al passato. Qui siamo nel posto giusto, la culla del passato, qui il design fonda le sue radici. Venite con me e vi mostro alcune cose. L'installazione che naturalmente nasce dall'idea, da una mia idea o da una idea in condivisione nostra, la vediamo. Questa installazione, molto particolare perché al centro c'è una lampada iconica, il nome è Barbalella, e ve la voglio far spiegare un attimo da colui il quale ho condiviso naturalmente questa esperienza. Ci puoi raccontare un po' questa condivisione di progetto? Certo, certo. Le lampade degli anni 60 rappresentano un periodo particolare di grande innovazione dal punto di vista della tecnica e delle capacità dell'industria nascente italiana. Nell'ambito dell'illuminazione abbiamo qui un esempio molto particolare di realizzazione in cui sia la maestria della lavorazione del metallo così come quella del vetro risultano avere un straordinario equilibrio, capacità nel rappresentare il momento storico degli anni 60. La lampada Barbarella è stato un designer fantastico che l'ha creata, che si chiama Angelo Brotto. è stata realizzata dalla ditta Esperia nella metà degli anni 60 e il suo effetto di bolle è appunto ispirato al film Barbarella della Jane Fonda. Vi ricordiamo una cosa, se facciamo un giro con la camera, qui ci sono tutti reperti direi storici dagli anni 60 fino ai giorni oggi. Abbiamo una carrellata da Artemide, Fontanarte, diciamo tutti i maestri del design in versione originale e la particolarità è, guardate che io non saprei, c'è Davenini, ci sono i migliori, tutti e i migliori sono tutti italiani. Quindi che cosa vogliamo dire? Il design fonda le sue radici sul passato. Buonasera da uno dei salotti più belli d'Italia, siamo sempre al fuorisalone di Archeda, siamo a casa Roche-Bubois. Ci saranno delle incursioni, artisti, esibizioni, DJ set, anche questo è il design e l'architettura, perché a volte parlare... Sì, è di qua. Che sta succedendo? Avete visto? Il design è anche irruzione, camminare, cambiare idea, questo è... quindi ci saranno sempre... Capito? Vedi che sta succedendo? È così, è così. Essere o non essere? Ma il design? Questo, questo è il dilemma. È il dilemma? Ma secondo voi il design dove è andato a finire? Avete capito che oggi per introdurre il design bisogna creare delle nuove formule. Questa è una di queste. Design Event ha sponsorizzato tutto questo, naturalmente grazie all'artefice Loredana De Luca, che dopo l'andremo a intervistare. Ma ora vi faremo spiegare anche delle installazioni. A tra poco. Ho qui in presenza dell'architetto Antonella Venezia, direttore artistico di tutte le installazioni. Ci vuoi spiegare questa alle nostre spalle, Antonella? Buonasera, buonasera a tutti. Sono Antonella Venezia, come diceva Luca, e mi sono occupata delle installazioni artistiche di tutti gli architetti, colleghi, interior designer, per tutti i punti vendita di tutte e tre le serate del fuori Archeda. Quest'anno, the design event, quindi con Loredana De Luca, abbiamo anticipato un po' un progetto di più ampia scala che partirà dall'anno prossimo, dove le installazioni noi intendiamo portarle anche per le strade, per le piazze, non soltanto nei punti vendita. Quindi quest'anno abbiamo aperto proprio una piccola porta, perciò un anticipo per quello che sarà il futuro. Per quanto riguarda le installazioni di Marcello Panza, verso Molteni, dell'architetto Di Maro, presso Poltrona Frao, così come Daniele Dallaporta, presso il negozio Nabi Interior, e da Massimo Cajanfa con Luca Picardi, da Roche e Bubuà quest'anno abbiamo deciso con il padrone di casa di non fare una vera e propria installazione. Me ne sono interessata io, ma più tardi ne parleremo insieme con Enzo Barriale, il titolare, perché abbiamo fatto un omaggio al signor François Roche che è venuto a mancare ottobre scorso, il 6 ottobre, all'età di 85 anni, quindi ci è sembrato un attimino anche più garbato ricordarlo negli anni, diciamo, lo sviluppo aziendale, più che fare una vera e propria installazione. Perciò c'è il mio nome, quindi è soltanto perché è un omaggio Luca e non è, come ho già detto, un'installazione. Diciamo, mi concludo dicendo che questo è un'anticipazione di un progetto a larga scala che stiamo preparando per l'anno prossimo. E quindi un'anticipazione, poi le vedremo sicuramente e vi seguiremo. Grazie e passiamo ora alle altre. Installazione, moda, design. Questo è Archeda e qui ci troviamo in uno spazio, siamo giù. È vero che a volte il paradiso non si trova su, ma bisogna scendere per trovare a volte le cose più belle. È il caso di Roche-Bouba Underground. Siamo qui con il patron. Volevo sapere come mai ha scelto di trovare queste atmosfere. Qui è vero che ci si sente a casa, ma qui siamo in un ambiente raccolto, siamo sottoterra. Come mai ci ha accolto in questo spazio che è curato in ogni dettaglio? Prima di tutto buonasera e scusate la mia voce che è bassa. Questi spazi siamo stati fortunati a trovare. Ci abbiamo messo impegno a renderli vivibili e accoglienti e quindi ci danno stesso loro la possibilità di creare degli ambienti che si continuano l'uno con l'altro. Quindi il nostro impegno è quello di essere attenti a non deturpare la bellezza di questo spazio, fondamentalmente. Sono quasi come delle scatole. In ogni scatola c'è qualcosa e le sorprese. Quasi come un calendario dell'alvento, come un bambino ogni giorno cerca un regalo diverso. Qui come le stanze, sono tantissime, ma in ogni stanza troveremo qualcosa di diverso. E a volte archeda significa anche che a volte, chi lo sa, succedono delle magie, possono succedere le magie. Il design in fondo è una grande magia, dove ognuno di noi, ogni progettista, si confronta con i suoi sogni. E troviamo spesso qualcuno che ce li può realizzare. Chi lo sa? Che sta succedendo? Che sta succedendo? Magie. Da Roche-Boubois ci sono le magie, ci sono le magie mobili. Avete visto? Quindi un mobile contenitore che uno lo guarda, ma in realtà è un'altra cosa. È un po' come le persone. Non bisogna guardarle all'esterno, ma forse quello che hanno dentro è ancora più bello. Siamo qui a casa Poltrona Frao, in via Chiatamone. E vorrei fare qualche domanda all'ideatrice di design event, Loredana De Luca. illustraci un po' dove siamo e che installazione c'è lì. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Stasera siamo sulla zona di via Chiatamone, poi ci sono alcuni storri invece sulla riviera di Chiaia. E poi abbiamo un ultimo punto che sta su Piazza dei Martiri. In realtà questa è la terza ed ultima serata di tre sere in cui attraverso gli showroom il design e l'architettura è uscita all'esterno. e l'abbiamo voluto fortemente anche un'occasione di Archeda, che è appunto la fiera che c'è stata il 3, 4 e 5 dicembre qui a Napoli. L'idea qual era? Era quella appunto di portare gli appassionati del design e non solo negli showroom che normalmente sono focalizzati su questo focus. In questo momento noi siamo da Poltrona Frau, dove insieme al design classico che normalmente ospita questo tipo di struttura troviamo anche una delle installazioni che ci sono state in tutta questa kermesse all'interno di queste tre serate. In particolare in questa, in una seduta storica di Poltrona Frau, in realtà è inscenata quasi una modella che con una figura rock, in qualche modo, ha vissuto una serata, una vita e che comodamente è seduta in questa poltrona. In altri showroom troviamo altre installazioni. Nell'installazione da Caiafa con il nostro amico Luca Picardi c'è un'installazione storica in cui c'è la visione di una storica lampada degli anni, le vedremo tutte una per una, e un'altra installazione... Questo format sarà sempre lo stesso oppure ci puoi dare qualche anticipazione per il prossimo anno? Anche perché ti faccio questa domanda, perché so che tu sei vulcanica, quindi già stai pensando, non sei neanche conclusa questa, che sicuro starai già pensando altro. Non svelare, qualche piccola chicchia. Allora, l'idea sì, è giusto perché l'idea è proprio quella di uscire sulle piazze, quindi fare delle installazioni nelle piazze, di aumentare il numero di showroom aderenti, ma non solo, anche quello di ospitare delle aziende, non proprio della nostra Napoli o della Campania, ma aziende che vengono da tutta Italia per fare in modo che con le loro installazioni possono essere presenti in alcune parti della città e negli showroom adeguati a questo sistema. Anzi, l'idea è anche quella di coinvolgere un certo numero di artisti che lavoreranno con il design. Direi un'esperienza ancora più immersiva, se posso usare questo termine. Grazie e alla prossima installazione. Siamo nel salotto di case degli italiani. Si presenta da solo? Giuseppe Pastore, produttore. Siamo nel salotto degli italiani, vi presento Giuseppe Pastore. Ci spieghi come ti rapporti nei confronti dello spazio? Diciamo che sono abituato a lavorare nei miei spazi e tirando fuori le mie produzioni penso sempre a come poter tirare qualcosa circa la meditazione. Non c'è cosa più bella di avere spazi nuovi e creare delle sinergie con magari bevande un po' particolari tipo room, tipo gin o tipo prodotti del territorio che ci possono aggradare e cercare di far contemplare meglio il luogo dove stiamo. Grazie, siamo in compagnia quindi di amici, di architetti e ripeto, Archeda è questo e tant'altro. Alle prossime installazioni. Allora, siamo in casa Nabi da Bianca Maria. Bianca Maria, ci spieghi come hai ideato i tuoi spazi? Beh, i miei spazi raccontano soprattutto l'architettura napoletana perché ho voluto sfruttare questo luogo così com'era. Un vano dentro un altro, un percorso che va attraverso gli archi e incontra poi il tufo. Quindi racconta una scatola nelle scatole. E poi ci puoi illustrare l'installazione che vedremo che è all'ingresso con Design Event? Sì, l'installazione è fantastica. Si tratta dell'incontro fra Ebanon, che è un'azienda che tra tre generazioni lavora il legno e l'intarsio, e Daniele della Porta. Loro hanno raccontato un bosco, un bosco che esternamente lo vedi, un'opera grezza. Entrando nel bosco vedi come il legno si trasforma in eleganza e in design. Guardando verso l'alto c'è uno specchio che ti racconta il tuo bosco interiore. Il bosco interiore è un po' come guardar dentro le persone. E vi dico una cosa, a Napoli qui il design lo hanno dato a persone illuminate. Per parlare di bosco interiore, quale miglior posto di un letto, un posto intimo? Ci racconti un po' l'opera, Daniele? Con piacere. Un'opera che è nata assieme a Giovanna Basile, al gruppo Basile, è un mobile rovescio. Tutta la ricchezza è tutta quanta all'interno. È una citazione del bosco interiore, appunto, è la ricchezza che ognuno di noi porta dentro. Quindi basta entrare, scoprire e poi scoprirsi e speriamo di ricevere anche le vostre foto, perché poi è un'opera con la quale interagire. Quindi non ci stiamo soffermando a quello che ci vediamo fuori. Scoprirlo in un avvolgimento, lì, anche una sensazione olfattiva, perché io ci sono entrato dentro e ti avvolge, è bellissimo anche l'olfatto. Giovanna, mi dici anche come l'avete realizzato e com'è nata questa idea, sposata poi da ebanisti da tre generazioni? L'idea nasce in realtà da un invito di Bianca Maria per il fuorisalone e da lì è nato a un tavolino al bar, mentre parlavamo Daniele ed io. Daniele ha preso un foglio di carta, ha cominciato a schizzare e da lì è nata la poesia. Quando dicono a noi architetti less is more, i veri architetti fanno così, un'idea la trasformano subito e poi a volte ci si lavora cinque, sei mesi, un anno per vedere i propri sogni realizzati. Grazie poi a chi li sa interpretare, in questo caso a Basile. Grazie e un abbraccio alla prossima da Casa Nabi qui. Grazie. 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 Grazie.